Durante la riunione del Consiglio di Vigilanza sulla realizzazione della variante alla regionale 69 avvenuta stamani in provincia è emersa la disponibilità di due delle tre ditte in graduatoria a completare i lavori in certezza sui tempi entro i quali il cantiere verrà riaperto. Sentiamo. Due delle tre ditte iscritte al bando si sono mostrate disponibili a portare avanti i lavori e non appena verrà conclusa la messa in sicurezza del cantiere la prima delle ditte in graduatoria verrà convocata per l'esame dei lavori da completare e per l'eventuale e definitiva accettazione dell'affidamento. La provincia di Arezzo con una nota ufficiale ha reso noto gli esiti della riunione del Collegio di Vigilanza sulla realizzazione della variante alla regionale 69 avvenuto questa mattina nel palazzo della provincia. Durante l'incontro al quale hanno partecipato in rappresentanza dell'amministrazione provinciale il presidente Vasai e gli assessori Perferi e Ruscelli oltre ai comuni valdarnesi di San Giovanni, Teranuova, Montevarche e Castelfranco tutti membri del comitato l'ingegner Sandra Grani, responsabile del procedimento ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla risoluzione del contratto con l'ATI dovuta al ritardo dei lavori e non a ragioni economiche in quanto i pagamenti, si legge nella nota, sono stati effettuati nei tempi di legge contestualmente dunque si è passate ad interpellare le prime ditte escluse dalla graduatoria e la disponibilità è stata estesa anche alle condizioni economiche del precedente affidatario nel frattempo la messa in sicurezza del maxicantiere sta andando avanti restano da capire però i tempi entro i quali i lavori potranno riprendere